Musica Babbo Natale, non è passato! Bisogna scoprire cos'è successo! Dai, andiamo! Musica Siamo qui per il caso Babbo Natale Basta! Cos'è tutto questo fracasso? La mattina di Natale! Chiamo i carabinieri, eh! Oh! La Ravefana! Oh che felicità! Non ha portato i regali? Sa per tutto il mondo Sto parlando del mostro dei ghiacci! Ah, Babbo Natale, sei finito! E' riuscito a liberarsi e certamente anche a fuggire! Ma questa è la famosa valle dei pini parlanti! Mai più! Verrà tagliato un solo pino per fare l'albero di Natale! Giri di grana, indicate le vostre gentil topine! Arrivederci! Arrivederci! Basta! Ya noi carabinieri, eh! Oh!